Dice una gente che il peccato è grande e capacchè sta dura, sto flagello. Oggi vedete il figlio che comanda è uno fratello contro uno fratello. A dove sta chiù? La moralità è una volta, l'amore, l'onestà. Ma tutto è inganno, che se potessero avere fanno una nota, certi mogliere che la gata fanno. C'è da farnì, non può farnì sicuro, se mi arriva da così lato mun. Oggi rimane un po' scuro, si pure o cisto, ma non ranno in funno. Castiga grossa, ma cucchietà a piglia. Vai, incoppati, vai, questa si sente, questa si va dicendo per famiglia, questa giorni e sera, dice la gente. E invece, scusate, fate una finezza, se sono ingranditi, non si è peccato nostro. Solo una volta non c'era la nettezza, che? Prima camminavano all'opposto, tutto angelo che scelta, si capisce, tutto di vota, la gente di empantica, erano scorso tutto quanto liscio, pane, che non faceva mai mullica. E o primo, ve lo siete scordato, quando con Eva D'Amo si fu unito, subito di origine al peccato per la fare l'uovo frutto proibito. Gli sa accettare l'uovo frutto, doma, doma, come racconta il Vecchio Testamento, quando Eva le ricette, prendi il pomo e la facette, chi lo complimenta. Perciò, anche è nato l'uomo in coppa della terra, è nato il male, questo lo sape ognuno, crescendo la razza e asciuta in via, se la guerra che o ti arricchisce o ti fa stare uno. Almeno Adamo si aggarbava i cuo frutto, va bene, c'è per detto il paraviso, ma certo avete lì, brutto per brutto, ma me ne faccia nato e ha giusto il peso. Con me avete la condanna e la cacciata guardai a turno, era il momento estremo, e se facette l'urdo e mi ha mangiato, non ci vuolette rummare da scemo. Ha scelto maledetto, minacciato, ma il zucchero teneva ancora mucca. E dopo, e dopo, è stata castigata pure gli avrutti, la guarda, era una tocca. Grazie a tutti.